E' un appuntamento non solo per farci gli auguri ma per rinnovarci nell'impegno ricordando alle istituzioni e alle comunità cristiane che lavorare insieme significa lavorare per il bene. E questo ci favorisce non solo nella conoscenza ma anche nelle strategie collaborative e operative per la città che sono fondamentali oggi. La settimana santa è un'esperienza particolare per le comunità cristiane perché certamente si rinnova la fede nel cuore, nel centro dell'impegno che è il sacrificio di Cristo che offre la vita per gli altri, per amore. E' una scelta d'amore profonda, bellissima, che forse non capiremo mai fino in fondo. E in questa settimana le parrocchie in fermento tengono sempre d'occhio tutte le strade. Tutte le strade significa la strada dei poveri, la strada dei bisognosi, perché tutti si affacciano nelle parrocchie in questi giorni, dal desiderio di confessarsi al voler ricevere un consiglio o una parola di conforto o un aiuto anche materiale. E avere le parrocchie aperte in questi giorni significa incontrare davvero tutti. E' una grandissima opportunità. Ho presentato il mio dorso ai cargelatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la pasta. Non ho sottratto la pasta... Non ho sottratto la pasta... Grazie.